Visto che noi è una trasmissione che si occupa soprattutto del contatto con i giovani, noi giriamo tutte le discoteche d'Italia, c'è un messaggio che Luciano Rispoli vorrebbe dare ai giovani? Si parla tanto di droghe, di incidenti stradali e via dicendo, c'è un messaggio che un uomo saggio come te vorrebbe dare ai giovani? Visto che sei anche padre fra l'altro. Caspi, sai questa è una cosa molto seria, io ai giovani dico divertitevi, divertitevi quanto potete, quanto volete perché la gioventù è una stagione straordinaria, ma non buttatela via, non sciupatela, quindi non drogatevi, non uccidetevi sabato sera lasciando le discoteche. La purtroppo, vediamo, il giovane non è quasi mai consapevole della enorme ricchezza di cui può disporre in quella fase della sua vita. Pensateci ragazzi, voi avete nelle vostre mani un patrimonio inestimabile, non sciupatevi, è divertibile.